Ciao ragazzi io sono Cuba Bear, PewDiePie Benvenuti in questo nuovo video con me c'è Merkure Ciao In questo video faremo molte prove Che non vi dico per tenevi suspense Guardate il vostro video PewDiePie E buona visione Toc toc Ciao Ciao Benvenuti in questa nuova prova E sto scherzando Questa prova consiste in un Infriare un limone In bocca Chi resiste di più vince Una patata Infriare un limone non è una patata La fammogare Vai Infilare un limone infilare Infilare ragazzi Ricordatevi infilare Vabbè Ma andiamo Questa è la prova numero uno e iniziamo Vai Ok Tre No 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 aspettate Uno Reale Se poi mi dite ho fatto i cazzoni vi picchio Uno Due Tre Che che schifo è andato anche sulla videocamera lo spruzzo io fatto il limone faceva schifo non l'ho provato a casa e continuiamo col prossimo video capi inizio la prova ciao ragazzi io sono vai continua continua se hai capito se hai capito questa è la terza prova vai via che la prova a inizio va bene vai mi si vede a me da vicino eh si no la merda ti è già cascata no oh raga io vado mi si vede a me vai ora si no scusate ragazzi c'è stato un problema tecnico eh l'ho ripreso eh ha sbagliato la mira ma per fortuna non si è rotto l'uovo ci mi provo vai continua 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 secondo uovo però lo faccio più da lontano vai continua ultimo uovo eh continua ragazzi qui finisce il video ragazzi la mia parte è finita ora tocca a me no no finiamo il video qui perché sennò ci pigliano per pazzi no 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 Grazie a tutti.